L'IDP è l'Associazione Italiana per la Direzione del Personale e io sono presidente della sezione campana di IDP. Quindi stasera siamo qui per questo evento finale di fine anno in cui saluteremo tutti i soci, ma come sempre oltre alla parte di scena conviviale abbiamo anche un momento di approfondimento di temi che sono cari alle risorse umane, a noi che ci occupiamo di persone. E stasera parliamo delle rotte per il futuro, in particolar modo inquadrando qual è il rapporto tra la tecnologia e le persone. Sappiamo che ormai la tecnologia guida in qualche modo le nostre azioni, guida le nostre aziende e sta intervenendo su tutti i processi anche organizzativi delle aziende. Però è importante capire, e se ne parla tanto, di quale sarà l'impatto poi sulle persone anche dal punto di vista occupazionale. Questo è un tema molto delicato. Io credo che stasera ed in generale non possiamo tanto parlare di futuro in maniera predeterminata e deterministica. dobbiamo più che altro individuare degli scenari e capire qual è lo scenario più probabile, quali sono quelli più probabili verso cui ci dirigiamo. E questo non è sufficiente perché lo scenario più probabile probabilmente non è quello più gradito per la crescita anche della società, della civiltà e delle persone. Quindi credo che il nostro ruolo oggi qui sia anche quello di orientare gli scenari affinché la tecnologia venga utilizzata in maniera responsabile, etica e si possa veramente parlare di un umanissimo digitale, di umanissimo manageriale. Quindi ci proviamo. Qual è il ruolo della Direzione Risorse Umane nel gestire e governare la tecnologia? Allora è un momento sicuramente di grande complessità da un punto di vista organizzativo e strategico e anche economico e sociale naturalmente. Chi gestisce le risorse umane o come preferiamo dire noi le persone ha un ruolo di grande responsabilità in termini di ascolto e di valorizzazione. Oggi più che mai le persone devono essere al centro delle organizzazioni e vanno trattate con empatia e cura e questo sicuramente deve migliorare. L'innovazione deve essere messa a servizio della gestione della relazione con le persone e quindi le nuove tecnologie possono essere un'opportunità. Se utilizzate correttamente, se analizzate correttamente, c'è la possibilità di utilizzare le tecnologie per migliorare quella che è la fase di recruiting ma anche quella che è la fase di gestione del personale. Il nostro mestiere è proprio quello di riuscire a fare incontrare in maniera positiva la domanda e l'offerta dell'innovazione cercando di capire quali sono le criticità, quali sono i bisogni trovando delle soluzioni possibili che siano compatibili e quindi non invasive della gestione del personale ma che siano compatibili con le strategie che ogni singola azienda decisamente e legittimamente sceglie. Io credo che la persona è al centro delle attenzioni del legislatore per una società più giusta, più equa, più moderna che sia competitiva ma che ponga al centro dei suoi valori la dignità dell'uomo. Quindi questo include anche la gestione delle risorse umane in quanto persone? Non possiamo non tenere conto che nell'ambito dell'innovazione tecnologica un tema decisivo sia quello della tutela dell'individuo la tutela di valori che sono valori fondanti della società e che non possono essere trascurati soprattutto tenendo conto che la modernizzazione non può dimenticare i valori fondamentali dell'individuo che sono i valori costituzionali, sono valori che meritano di essere protetti e garantiti anche in una società più moderna e più innovativa. Siamo in compagnia dell'assessore Barretta, assessore al bilancio del Comune di Napoli un ruolo veramente molto delicato in questa ultima fase e in modo particolare Assessore si parla di risorse umane e di gestione delle risorse confligge un attimino con i rapporti reali poi con i dipendenti? Noi dobbiamo essere in grado in questa complessa società nella quale si esagera nella conflittualità trovare un rapporto positivo con tutti coloro che si dedicano a un'impresa al lavoro, all'attività, soprattutto in situazioni collettive dove ci sono più persone che insieme producono questo vale per il privato, vale per il pubblico, vale per il Comune, per lo Stato, vale per le imprese la chiave di volta sono le risorse umane, sono la persona la persona al centro di qualsiasi progetto allora quella è la strada che ci può far guardare con un po' di fiducia al futuro grazie